Una squadra costruita per vincere il campionato o comunque per andare in qualsiasi maniera in Serie D tra l'altro ulteriormente rinforzata in settimana, ovvio in riferimento al Manfredonia. Un'altra squadra, il Canosa, che probabilmente non è partita la scorsa estate per ambire al più importante traguardo, ma che ha aggiunto di recente due pedine al proprio parco offensivo e che non disdegna la volontà di occupare sino al termine un posto di prestigio nella graduatoria del Gironia di eccellenza. Non è una sfida banale in buona sostanza quella in programma domani a partire da ore 14.30 sul neutro di San Ferdinando in virtù dell'indisponibilità continua del Miramare. Si affrontano dunque Manfredonia e Canosa per l'ultima giornata del girone d'andata. I Sipontini dopo 12 turni di campionato guidano la classifica con 27 punti gli stessi del Biceglie. I Canosini invece inseguono a 6 lunghezze di ritardo ed occupano la quarta piazza, l'ultima utile per giocare eventualmente i playoff regionali. La grande novità di questa stagione è una sola sconfitta in questo campionato per la squadra allenata da Pasquale De Candia in corsa anche in Coppa Italia di Lettanti giovedì prossimo. Giocherà in casa la semifinale di ritorno con il Polimia e partirà dal successo per 3-1 ottenuto in trasferta all'andata. I Canosini dopo una partenza in affanno stanno provando a risalire la china e si sono proposti con prepotenza a ridosso delle big del girone. Domani in pratica sono attesi da un'autentica prova del 9 contro la realtà più forte probabilmente dell'intera categoria. Non mancheranno tra l'altro novità nei rispettivi attacchi. La squadra di Massimiliano Olivieri infatti si è garantita in questi primi giorni nella finestra invernale del mercato due dei centravanti più prolifici di tutta la storia dell'eccedenza pugliese. Pasquale Trotta arrivato dal Sansevero e Gennaro Manzari reduce dall'esperienza all'Unione Calcio e dalla vittoria nella passata stagione del triplete con il Barletta. Appescato dalla Serie D invece nei giorni scorsi in Manfredonia ingaggiati Ezechiel Zaldua, ex Barletta e Giuseppe Lopez che ha giocato invece a Martina. Tanti spunti di interesse insomma per una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di gol.